È venuta a trovarci quest'oggi in studio Giada Forconi, una giovane giocatrice di bracciale femminile che fa parte della SD Carlo Didi di Mediterreia. Giada, avete pensato ad una bella iniziativa Arena in Rosa in programma il prossimo fine settimana. Di cosa si tratta? Il prossimo fine settimana, 23 e 24 ottobre, ci sarà questa Arena in Rosa e il sabato ci sarà un Open Day, quindi tutti quelli che verranno potranno partecipare e provare a giocare a bracciale insieme a noi. Noi faremo un allenamento e daremo questa possibilità anche agli altri. Invece domenica ci sarà il vero e proprio torneo dove vedrà anche partecipare altre due squadre esterne a Treia che sono chiusi e Firenze. In totale siamo sei squadre, faremo due gironi e l'evento si svolgerà durante tutto l'arco della giornata. Un'iniziativa questa benefica in occasione di questo mese della prevenzione in Rosa. Esatto, questo torneo è stato proprio pensato per la lotta contro il tumore al seno, in occasione per sostenere l'associazione Le Orchidee ETS. Tu sei una giocatrice dal 2017, quanti siete in squadra? Più o meno, allora quest'anno siamo 16 giocatrici, più o meno, però di solito l'anno scorso siamo arrivati più o meno anche a 20-21, quindi dipende, ogni anno è diverso. Fate parte di un girone che partecipa anche ad un torneo? Noi durante l'anno, diciamo, a livello di comune, quindi per Treia, facciamola di sfida in Rosa. In questa occasione, visto che quest'anno non ci sono state nazionali, quindi non c'è stato nulla per motivi di Covid e così via, abbiamo deciso di fare questo torneo per sostenere appunto questa lotta contro il tumore al seno. Parlando sempre di donne, quindi di artigianalità al femminile, tu ti occupi anche di un altro importante progetto nel tuo negozio laboratorio. Esatto, io sono un'artigiana e dal 2019, praticamente da quando sono nate Le Orchidee, ho creato un progetto che si chiama Collezione Tettine e con questo progetto sostengo questa associazione con i prodotti che produco. Segnalibro, tazze, bicchierini da caffè, c'è un po' di tutto all'interno del tuo laboratorio? Esatto, per sostenere questa associazione il tema, diciamo, il disegno principale sono delle tettine che appunto io lavoro un materiale che si chiama Fimo e applico su questi oggetti e la metà del ricavato di ogni singolo prodotto viene devoluto all'associazione Orchidee TS. Hai un tuo laboratorio proprio in centro storico a Treia? Sì, esatto, è a fianco al teatro comunale e lì ho il mio laboratorio artigianale. Di solito il sabato è aperto al pubblico, a meno che non ci siano altri eventi in programma, però di solito sono lì. Quindi potranno venirti a conoscere tutti coloro che ti stanno ascoltando all'interno del tuo negozio, ma anche sabato e domenica prossimi un invito a partecipare all'Arena in Rosa. Esatto, noi vi aspettiamo assolutamente a braccia aperte e almeno così potete conoscere per chi non conoscesse già questo fantastico sport e così potete anche sostenere una causa molto importante.